Singolare emergenza ieri, giovedì 15 ottobre, presso l'Istituto Superiore Grandis di Cuneo. A causare il caos, una bomboletta di gas urticante anti-aggressione, svuotata in aula da una studentessa che ha mandato all'ospedale tre compagni di classe. Il fatto è accaduto ieri, alle nove e mezza, in una classe prima di 30 ragazze. All'intervallo, una di loro, forse accidentalmente cercando la merendina dentro il suo zaino, ne ha estratto il contenuto. Fra libri, quaderni e diario è spuntata anche una confezione monouso di spray e il peperoncino per autodifesa. Una compagna l'ha afferrata e spruzzata verso una delle finestre della classe, che era aperta, senza pensare alle conseguenze. Una folata di vento ha però sospinto il gas riversandolo all'interno della classe. A rientro dall'intervallo, tutte le giovani hanno iniziato ad accusare tosse, lacrimazione, irritazioni alla gola, alle braccia, mal di testa e nausea. L'insegnante le ha immediatamente fatte uscire cercando di areare i locali. Una volta lanciato l'allarme, sono intervenute tre ambulanze di Croce Rossa e Misericordia, due squadre di vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Medici e infermieri, accorsi sul posto, hanno visitato le studentesse, affidandole poi ai genitori che le hanno portate a casa. Tre giovani, tuttavia, sono state accompagnate al pronto soccorso per accertamenti e successivamente dimesse nel pomeriggio. Sia la ragazza che ha portato la bomboletta a scuola, sia la compagna che l'ha spruzzata frequentano la classe prima, ma hanno già 16 anni, l'età minima consentita per acquistare lo spray anti-aggressione. La madre della proprietaria della bomboletta ha spiegato che il bullismo non c'entra. La figlia ne era in possesso per questioni di sicurezza, dovendo percorrere a piedi alle prime ore del mattino il tratto che va da casa a scuola. Per ora non sono stati presi provvedimenti disciplinari contro nessuno. Il preside si riserverà di decidere diversamente dopo aver parlato con le interessate.